60.000 euro per l'ammortamento di un'ambulanza di tipo A invece dei 35.000 previsti dal regolamento varato dall'ASREM il 3 ottobre scorso. Più corposo anche il contributo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, rimborso e volontari per l'andata e ritorno dalla postazione fino a 150 km invece di 50. Sono alcune delle voci che l'azienda sanitaria cambierà con un nuovo provvedimento che sancirà il passaggio attraverso un avviso alla nuova convenzione per le organizzazioni di volontariato che si occupano del 118 fornendo alla sanità pubblica ambulanze, automediche, autisti e soccorritori. L'intesa è stata raggiunta durante il secondo e decisivo vertice nella sala parlamentino di Palazzo Vitale con il presidente Donato Toma, commissario della Sanità, il direttore generale dell'ASREM Oreste Florenzano, il direttore amministrativo Antonio Lastoria e i presidenti delle associazioni che solo una settimana fa avevano manifestato insieme ai volontari davanti al Consiglio regionale in segno di protesta contro i tagli che avrebbero di fatto dimezzato la remunerazione del servizio da parte dell'ASREM. Abbiamo adeguato, adegueremo le regole su cui la convenzione si basa alla normativa sul terzo settore, quindi si parla sempre di rimborsi spese, non ci sono rimborsi forfettari ma rimborsi spese. L'unica voce che era rimasta in sospeso e che oggi abbiamo trattato era quella sul rimborso ai volontari, parliamo di un rimborso che è stato portato da 22 euro circa a 31 euro circa, con coniezione di causa, con rivalutazione che non si faceva ormai da 20 anni, in maniera da soddisfare anche le esigenze alimentari del volontario. In più abbiamo stabilito un quinto della benzina fino a 150 chilometri percorsi dal volontario, quindi dal luogo di residenza al luogo di servizio. 150 chilometri andate e ritorno, non si fa differenza tra i chilometri di andate e i chilometri di ritorno. La soluzione è stata concordata e accettata, gradita dalle associazioni. Noi siamo in piena regola con il codice del terzo settore, per cui l'avvertenza è chiusa. Le associazioni preferiscono non rilasciare dichiarazioni dopo l'incontro, ma l'assenso c'è anche perché l'andamento della nuova convenzione sarà monitorato dopo i primi sei mesi dall'attivazione. Questo l'impegno garantito dall'ASRE. Il confronto con le associazioni volontariato è stato edificante anche sotto il profilo personale. Ci siamo confrontati, abbiamo chiuso tutte le questioni che erano in discussione, per cui adesso si passa alla stipula della convenzione.